Una festa quanto mai sentita quella di San Giovanni, a spinete partecipazione ed attività per il patrono del paese. Quest'anno però con una particolarità, anzi certamente un'unicità, come ci tiene a definirla il sindaco. Quest'anno in maniera particolare abbiamo voluto arricchire questa giornata con un evento veramente particolare. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di avere insieme a noi le cosiddette nonnine di tutti noi. Abbiamo questa straordinaria presenza all'interno della comunità di tre figure ultracentenarie che ringraziando a Dio ancora godono di uno stato di salute buono. Siamo insieme ai propri familiari ovviamente, con una bella collaborazione siamo riusciti a portarle all'interno della chiesa e quindi a farle condividere con noi una fetta ad uno spazio importante di questa giornata. Per le centenarie nonne del Molise, la felicità di essere al centro dell'ammirazione del paese. La festa del paese, siamo venuti a fare la presenza per la festa di San Giovanni, con il nostro buon centenario che abbiamo fatto. Penso che Dio ci aiuti e ci potregge durante la vita terrena. Come mi sento? Mi sento pure un buonarello a questa età che voglio dire. Ringrazio il nostro signore che mi ha fatto arrivare a questi tanti soffrimenti.